San Giovanni Marignano Ospiti avanti, un posto tentativo di testa ad opera di Slimani che si conclude con un nulla di fatto Ancora Slimani protagonista e giocatore in maglia numero 11 cerca la solo personale Azzorini è costretto a smanacciare La Marignanese si fa vedere con questa conclusione di Crescentini ma anche in questo caso è apprezzabile il tentativo ma la sfera termina fuori misura Nella ripresa la Marignanese alza la voce dal corner Tonelli, non i quadri bersaglio ma il gol è rimandato di una manciata di minuti Penso al fine calibra mira e angolo alto, pallone che batte l'incolpevole Costantino Sarà questa la rete dei tre punti Da calcio piazzato padrone di casa ancora pericolosi che vanno vicini al raddoppio Ma il pallone viene calciato al di sopra della porta difesa da Costantino Termina qui una gara che è stata barra di emozioni con la Marignanese che esce tra gli applausi del proprio pubblico mantenendo il secondo posto nella gradatoria Grazie